Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video guida. Oggi vi mostrerò come ottenere a cadimento il fucile automatico del trono mondo di Sabaton. Dovete sapere che quest'arma vi sarà utile per una quest della lavagna che poi vi porterà a ottenere in un secondo step il falcione esotico. Per ottenere l'arma a cadimento dovrete avviare l'attività sorgente attacco. Piccola informazione, dovete sapere che questa modalità cambia ogni giorno alle 18 del pomeriggio in difesa o attacco e ci sono due modalità attacco e due modalità difesa. Per capire qual è quella che vi serve dovete leggere la descrizione che ha e da lì capirete che cosa droppate a fine evento. Nel caso nostro se volessimo avere accadimento nella descrizione attacco ci dovrà essere scritto questo. Quindi ora recapitolando dovremo avviare il sorgente attacco dopodiché atterreremo e per partire ci basterà semplicemente sparare ai cristalli dopo aver preso la bandiera. Il primo step consisterà nel far pulizia arrivare verso il fondo uccidere il portatore di luce che ci permetterà di far comparire dietro di noi gli ascensori per salire su. Una volta che saremmo arrivati sopra per avviare il secondo step dovremo liberare la piramide e scortarla. Ogni tanto comparirà un cristallo che dovremo distruggere per farla avanzare e far scomparire gli aghi blu da terra che ci faranno male. Una volta che arriveremo in fondo la piramide farà scomparire i cristalli per farci passare dalla porta. Dopodiché per il terzo step dovremo sparare ai cristalli che troveremo al centro e questi ci daranno accesso a tre stanze diverse con una magliarda. Noi dovremo soltanto posizionarci dentro il cerchio per levare lo scudo alla magliarda. Una volta che lo scudo sarà abbassato potete uccidere la magliarda che lascerà per terra una pallina. Questa dovremo raccoglierla e depositarla al centro e questo lo dovremo fare per altre due volte. Dopo che avremo depositato l'ultima pallina, quello che dovremo fare per avviare lo step finale sarà sparare ai cristalli che leveranno lo scudo al custode e facendo questo già da subito avvieremo una fase di danno. Finito il danno il custode riavrà lo scudo e per levarglielo ci basterà semplicemente uccidere la magliarda che ci lascerà per terra una pallina e dovremo depositarla al centro. Facendo questo avvieremo di nuovo una fase di danno e questo lo dovremo ripetere per ben due volte. Una volta che avremo sconfitto il custode spawnerà la cassa e qui dovrà andarci di fortuna poiché il fucile automatico a cadimento da affinare è un drop non comune cioè non sempre garantito quindi dovrete ritentare altre volte fino a quando non lo droppate. Una volta che l'avrete droppato dovremo equipaggiarlo per poterlo affinare. Dovete anche sapere che per poi poterlo creare alla forgia ve ne serviranno due da affinare. Quindi il metodo più veloce per affinare le armi in generale è completare eventi e partite. Quello che io vi consiglio è di continuare a fare il sorgente attacco così affinerete l'arma e in più avrete la possibilità di trovare un altro accadimento da affinare. Una volta che avremo affinato per ben due volte l'accadimento avremo la possibilità di andare alla forgia e crearcelo per la quest della lavagna. Detto questo ragazzi spero di esservi stato di aiuto nel caso in cui non abbiate capito qualcosa scrivetelo nei commenti io vi aiuterò. Come ultima cosa vi chiedo gentilmente di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale così vedrete altri contenuti che porterò a tema destini 2. Io vi ringrazio per aver visto questo video noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi.